La terapia con cellule CAR-T, una forma di immunoterapia che sta rivoluzionando la cura di alcune leucemie, alcuni linfomi, è un vero e proprio viaggio scandito da diverse tappe. Tappe che sono state illustrate oggi ai giornalisti durante una CAR-T Experience condotta presso l'Humanitas Cancer Center di Rozzano, uno dei centri di eccellenza autorizzati all'erogazione di questo trattamento. Noi ci facciamo raccontare queste tappe dal professor Armando Santoro, direttore di questo centro. Professore, dunque, qual è la prima tappa del viaggio del paziente che è candidato alla terapia con CAR-T per una patologia che avete diagnosticato qui in Humanitas oppure che giunge la vostra attenzione inviata da un centro periferico? Un viaggio che comporta già avere fatto precedentemente dei trattamenti, perché non dimentichiamoci che il paziente deve avere fatto almeno due chemioterapie. Quando arriva un colloquio con i medici del gruppo CAR-T per vedere l'idoneità al trattamento con CAR-T, se è idoneo si avvia tutta la procedura della raccolta delle cellule che devono poi essere inviate per essere ingegnerizzate. Per quanto riguarda la ferestia è una raccolta, come quanto si raccoglie forse diciamo il sangue per fare una trasfusione, quindi è una raccolta di per sé banale che consente di raccogliere le cellule, di raccogliere le sacche di sangue per le quali dopo vengono isolati i linfocili T che sono quelli che vengono inviati per la manufacturing, per la preparazione delle cellule, quindi per sé la feresi è una cosa abbastanza banale che non ha implicazioni particolari e che dura un paio di ore. Ci avete spiegato che questo processo di produzione dura circa un mese, quindi mentre il paziente aspetta che arrivino queste cellule dal centro produttivo, che cosa succede? Deve fare dei trattamenti? Qual è la malattia che noi dobbiamo trattare? In questo momento con i linfomi aggressivi sicuramente è opportuno fare una terapia che viene chiamata terapia bridge, cioè di accompagnamento per cercare di non fare esplodere la malattia, di evitare che il paziente abbia una progressione tale da non consentirgli poi per decadimento delle condizioni generali di fare il trattamento con CAR-T. E dunque dopo questo mese di attesa finalmente le CAR-T arrivano al vostro centro, a questo punto che cosa succede? Cioè quanto dura l'infusione delle cellule? Bisogna fare qualche trattamento preparatorio? Quanto il paziente deve restare in ospedale dopo l'infusione e che tipo di controlli deve fare? Quando arrivate le cellule diciamo che il paziente può subito passare alla fase di infusione mediante un trattamento precedente che viene chiamato di linfodepressione, sono degli schemi classici di trattamento di durata di pochi giorni, quindi se reinfondono le cellule il processo di infusione abbastanza rapido che dura intorno ai 20-30 minuti e quindi abbastanza veloce. Dopodiché il ricovero resti in ospedale normalmente se gira sui 10-12 giorni, questo però dipende moltissimo da quelli che sono gli effetti collaterali, non si può negare che all'inizio erano molto importanti e prevedevano in un'alta percentuale di casi il ricovero anche in rianimazione, oggi sono molto ben controllati ed è raro che il paziente vada in rianimazione e in genere in 10-12 giorni si riesce a dimessere il paziente, 10-12 giorni dopo la reinfusione, in totale 15-20 giorni. Ecco una volta dimesso il paziente può tornare a casa e poi che controlli deve fare e con quale frequenza? Diciamo che il primo mese il paziente viene tenuto sotto controllo stretto ed è preferibile che stia vicino al centro dove ha eseguito la terapia con CAR-T, successivamente nella maggioranza dei casi può ritornare a casa, possibilmente cosa che facciamo regolarmente con un contatto con l'ematologo di riferimento dove il paziente era seguito, se è un paziente di fuori sede e si riesce a gestire con molta facilità. Restano da gestire magari in sede quei casi limitati in cui invece ci sono degli effetti collaterali importanti e persistenti che comunque sono assolutamente una minoranza. Oggi ci avete anche spiegato che l'obiettivo finale di questo viaggio è la guarigione del paziente, ma dopo quanto tempo riuscite a capire se la terapia ha effettivamente funzionato e questo obiettivo è stato raggiunto? Guardi, la prima sensazione di efficacia della terapia ce l'abbiamo in trentesima giornata, lì i casi veramente responsivi ottengono, si fa un aperto, ottengono una remissione completa. Convenzionalmente vengono dati 90-100 giorni, però i 30 giorni sono fondamentali. Se al centesimo giorno il paziente non è in remissione completa, vero similmente un paziente che avrà una ricaduta e un paziente che non sarà guarito. Dei pazienti invece a 100 giorni in remissione completa, la stragrande maggioranza direi che ha delle ottime chance di potersi considerare guarito definitivamente. Al di là del viaggio del paziente oggi ci avete spiegato che i pazienti che finora in Italia hanno avuto accesso alla terapia con CAR-T sono in realtà meno di quelli che avrebbero potuto beneficiarne. Come mai e cosa si può fare per colmare questo divario? Sono assolutamente meno. Possiamo anche trovare l'alibi del Covid che sicuramente non ha facilitato gli spostamenti. Consideriamo che i centri abilitati, riconosciuti per fare le cartine in Italia sono ancora pochi e maggior parte concentrati in Nord Italia, quindi questo può aver influito, però io credo che la causa maggiore sia una non sufficiente conoscenza da parte dei pazienti di questa possibilità terapeutica e forse un invio non sempre adeguato da parte di colleghi che lavorano in strutture più piccole dove magari non hanno a disposizione un reparto d'artì.